I giovani sotto il fascismo portarci ricordi, fotografie, cimeli degli anni del fascismo anche se il titolo è specifico I giovani sotto il fascismo Ecco, perché questo taglio? Devo dire che ovviamente questo è l'avvio di un percorso che ci porterà ad un festival della storia a Salò quest'estate sempre su questo tema e si concluderà con l'allestimento di una mostra sempre a Palazzo Martinengo da dove abbiamo due anni fa portato la mostra Brescia sotto le bombe dicevo, perché abbiamo scelto questo tema segnatamente i giovani ma perché crediamo sia il modo migliore per accostarci al grande tema del fascismo se noi dovessimo chiedere a un giovane magari uno studente quindi che dovrebbe saperne un po' il fascismo cos'è stato? probabilmente ci risponde è stata una dittatura è stata un'avventura reazionaria ecco, noi vogliamo mettere l'accento sul fatto che fu un grande progetto totalitario che contrassegna il novecento antiliberale mi spiego nella storia ci sono tante dittature tante autocrazie tanti tiranni ecco il totalitarismo è una produzione novecentesca e l'Italia ha avuto purtroppo il brevetto quasi almeno sul fronte del totalitarismo di destra ha fatto scuola e il totalitarismo cos'è? è l'idea di creare un ordine uno stato che controlla non solo i comportamenti cosa che appunto il tiranno voleva fare che non voleva che ci fosse un'opposizione che ci fosse qualcosa che andava contro di lui ma che vuole anche conformare la mente cioè vuole creare un tipo di uomo che in qualche misura sia rispettoso e rispetti l'ordine creato dal dittatore quindi tra la dittatura e il totalitarismo c'è un salto di qualità non solo i comportamenti ma la mente dove poteva un progetto totalitario in questo caso mussoliniano mirare ad esercitarsi in maniera più specifica e più puntuale sulla materia più malleabile cioè il giovane che nasce il bambino che nasce perché le generazioni che nel 22 avevano già 20 anni 18 anni 15 anni ancora a maggior ragione quelle più anziane avevano in qualche misura erano già state plasmate vuoi dalle culture politiche dalle culture familiari che non erano ovviamente collimanti con l'idea che aveva Mussolini di fare l'italiano soldato che si immolava per la patria che costruiva l'impero è stato con i giovani i giovani nati e cresciuti in questi 20 anni che si specificatamente si misura questo grande disegno noi allora abbiamo scelto questo tema perché si mette a fuoco cosa è stato il fascismo e naturalmente questo lo facciamo a tutto tondo perché il bambino non è ancora nato è già è già balilla non è un cristiano non è un figlio è un balilla cioè è il futuro soldato del regime e questo naturalmente per creare questo c'è stata una grande arte propagandistica educativa che va dalla propaganda vera e propria che è la più banale però perché la propaganda è sempre esterna vuoi invitare vuoi condizionare qualcuno e invece la cosa maggiore è la pedagogia diciamo così cioè il bambino a scuola con i riti con lo sport con il tempo libero viene lanciato in un orizzonte che è unico e che noi abbiamo chiamato l'universo balilla quindi il bambino nasce balilla abbiamo trovato un'immagine di un annuncio della nascita di un bambino il bambino nudo i genitori lo annunciano è nudo ma col fez quindi il bambino non lo sa già ma lui è già fascista prima di nascere e questo fa sì che queste generazioni sanno quelle che più si si identificheranno col regime tanto è vero che è in queste generazioni che poi recluteranno vedranno reclutamento dei volontari della Repubblica Sociale cioè quando ormai il fascismo era una causa persa oltre che sbagliata i giovani di 16 17 18 anni corrono perché per loro l'Italia è fascismo eh sì professore un piacere ascoltarla però vogliamo dare anche qualche dritta perché questo è un progetto che ha preso il via del centro studi RSI in collaborazione con il giornale di Brescia proprio per riavvolgere i fili della memoria storica c'è un sito internet che risponde all'indirizzo giovani sotto il fascismo punto et e c'è una raccolta appunto di materiale mi vuole raccontare come funziona? Sì beh noi adesso l'abbiamo appena impostato diciamo così ma sarà nostra cura cercare di caricare questo sito di tutti gli eventi che nel frattempo riusciremo a costruire il maggiore è la serie dei collection day una volta al mese al giornale di Brescia la prima settimana del mese il lunedì ci sarà l'invito ai bresciani a venire a trovarci se vogliono per raccontarci le loro storie o portarci anche del materiale è più vario può essere una cartolina può essere una fotografia può essere un oggetto magari ecco professore scusi precisiamo che verrà scannerizzato e restituito poi chiaramente l'originale subito sì sì farci conoscere non è che vogliamo appropriarci sono documenti importanti per la famiglia per la persona l'ha fatto bene chiarire perché ognuno è geloso del proprio oggetto ecco questo è il martedì questo è il lunedì il martedì sul giornale di Brescia ci sarà una pagina che racconta cominciando da domani un aspetto della vita dei giovani sotto il fascismo e il mercoledì avremo l'incontro con chi vorrà così vorrà chiacchierare con noi di quel che si ricorda o ha sentito dire o degli oggetti che ha questo per quattro mesi quattro prime settimane del mese dopodiché tra la metà di giugno e la metà di luglio faremo quello che chiamiamo il festival della storia di Salò sul Garda in cui tratteremo di questo tema con degli relatori e con degli attori per rendere più animate e il clou è invece a ottobre novembre dove al Martinengo qui in via Musei che tutti conoscono allestiremo una mostra che abbiamo già in mente ovviamente e che appunto tratterà i vari aspetti di come il fascismo inquadra irrigimenta gli italiani i bambini i giovani e gli adolescenti lei ha conosciuto alcuni di questi giovani beh certo io ovviamente ne ho sentito parlare ma ho anche conosciuto perché ma basta parlare con qualcuno beh adesso ovviamente diciamo chi ha vissuto questa esperienza è troppo lontano ma nelle famiglie noi facciamo molto affidamento sul fatto che questa idea del padre il figlio della lupa l'avanguardista e poi soprattutto se hanno delle fotografie è facile trovare dei propri o genitori o nonni o bisnonni fotografie di questi allora giovani che non appaiono ridicolmente intenuta con la camicia nera con il fez con il fucilino comunque vedremo di risvegliare almeno l'interesse se non la partecipazione è un'iniziativa importantissima proprio per riavvolgere come scrivono sul giornale di Brescia i fili della memoria storica con raccolta appunto di documenti e di testimonianze e anche il giornale di Brescia vuole esserci c'è il sito internet che vogliamo ricordare giovani sotto il fascismo punto it con la possibilità di visionare la cartella la conferenza stampa il collection days e poi ancora l'archivio centro studi rsi ne abbiamo parlato con il professore Roberto Chiarini è stato un piacere ritrovarla e poi magari nel corso del tempo avremo modo di riospitarla per seguire la crescita di questo progetto mi ha fatto piacere grazie comunque dello spazio che ci ha concesso come sempre complimenti ringraziamo il professor Roberto Chiarini ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco grazie a tutti